insieme per cella dividi la tua cena con un bimbo indiano ultimo appuntamento prima della partenza per l'india prevista per il 18 gennaio vi aspettiamo al bandiera gialla domenica 16 gennaio ore 13 con la partecipazione straordinaria di chico solinas con monitorando gradita prenotazione al 328 97 92 676 oppure allo 079 4124 198 in collaborazione con teleg